Sono Giuseppe Clementi, mi occupo della direzione tecnica del gruppo Cantina Hermes. Ci occupiamo di tutti i processi di trasformazione in tre regioni d'Italia, quindi in Sicilia, in Puglia e in Veneto. Perché abbiamo scelto questa soluzione dello smart? Perché lo stesso termine lo dice perché ci dà la possibilità anche in cantine periferiche di poter eseguire delle analisi con una facilità di esecuzione e con un'accuratezza nel risultato. Questo è un po', secondo noi, il punto di forza di questa tecnologia. Chiaramente le dimensioni compatte e la possibilità di poterlo trasportare agevolmente ne fa uno strumento per noi oggi molto importante. Chiaramente in azienda abbiamo altri strumenti che lavorano sulle analisi enzimatiche, però avere uno strumento così piccolino in grado di poterlo trasportare laddove ce ne fosse bisogno ha evitato a noi di centralizzare tutto all'interno di pochi laboratori laddove il lavoro durante il periodo vendemmiale è naturalmente molto concentrato ed è molto ampio. Quindi arrivare già con dei risultati nelle cantine periferiche rispetto alle sedi centrali per noi è estremamente importante. È uno strumento, secondo me, che si abbina bene all'uso che ne facciamo noi, quindi ha un uso legato alle strutture più piccole che non hanno un laboratorio superorganizzato come quello che può disporre un'azienda grande e quindi è un uso, secondo me, appropriato e per un'azienda grande per gestire dei depositi o anche delle cantine di vinificazione più piccole e per le aziende piccole che non potrebbero avvalersi di strumentazione più grande, automatica che fa parte di laboratori chiaramente più performanti. Allora, grazie per questo spazio, spero che possa essere di aiuto a colleghi o ad amici e naturalmente buon vino a tutti.